Siamo con il presidente della provincia di Udine, Pietro Fontanini, anche lui oggi in tribuna per assistere alla sfida tra Tavagnacco e Como. Che impressione ha avuto? Bella impressione perché ho visto delle giocatrici molto dinamiche, a un livello ottimo perché ci sono degli schemi, c'è un pressing, c'è una partita vivacissima con tanti gol perché ne hanno già fatti quattro in questo primo tempo e soprattutto il Tavagnacco l'ho visto una squadra di ottimo livello. Penso che è una squadra che deve avere maggiore attenzione da parte di tutta la nostra comunità. Se ci fosse un piccolo sforzo da parte magari delle autorità regionali e dico anche adesso di chi sostituirà la provincia per dare una mano a questa realtà che, ripeto, è molto molto interessante. Anche perché giocando in Serie Alta, Tavagnacco porta il nome del Friuli e di Tavagnacco in tutta Italia e poi i colori sociali sono giallo e blu. Sì, mi piacciono questi colori, sono i colori del Friuli, giallo e blu e quindi è un bel messaggio da portare in giro proprio per l'Italia ricordando la nostra storia e anche la nostra identità. Io non so in questo frangente ancora di anno di vita della provincia se riuscirò a trovare qualche piccolo aiuto economico ma ci faccio un pensiero concreto e spero di poter dare una risposta anche con qualche aiuto perché so che ci sono forti necessità di avere qualche sostegno.